Valentina Stragliati è? Sono una giovane di 30 anni, vivo a Castel San Giovanni, sono psicologa di professione, sto continuando a specializzarmi anche dopo la laurea, sto facendo una scuola quadriennale di specializzazione, sono anche assessore nel mio comune di Castel San Giovanni, assessore alla pubblica istruzione, infanzia, disabilità, sport e politiche giovanili, sempre della Lega Nord e sono candidata alle elezioni europee per la Lega nella circoscrizione. Quali risultati hai portato a termine come assessore? Allora, io sono partita dal presupposto che un buon amministratore non sta chiuso nei palazzi comunali ma sta sul territorio, sono sempre stata molto vicina alla gente, sono portato a casa dei risultati anche grazie alle persone che ho ascoltato e che mi hanno dato tanti buoni suggerimenti e consigli. Ho cercato di valorizzare il più possibile la scuola, l'infanzia e le associazioni sportive che sono veramente molto importanti nella mia cittadina. Una cittadina di 14.000 abitanti ha 18 associazioni sportive che fanno tanto, tanto soprattutto per i bambini e per le loro famiglie, sono un punto di riferimento importante. Oggi per gli amministratori locali non è facile amministrare perché le risorse sono veramente poche, però bisogna cercare il più possibile di ottimizzarle andando incontro alle vere esigenze dei cittadini senza aumentare le tariffe a domanda individuale che riguardano il nido di infanzia, che riguardano il servizio di mensa scolastica e di trasporto scolastico. Io ho cercato di fare questo. Le nostre tariffe sono le più basse in tutta la provincia di Piacenza, mantenendo comunque una buona qualità dei servizi scolastici. Perché ti candidi alle europee? Mi candido alle europee perché me l'ha chiesto il mio movimento, perché credo nella Lega Nord, perché porto con me tutta la motivazione e la passione dei miei 30 anni e le idee della Lega Nord. Io ci credo, so che non sarà facile, però ci metto la faccia e vado avanti. Credo nei valori della Lega, credo che si può uscire dall'euro, che si possa andare contro l'Europa, non l'Europa in sé, ma l'Europa come è strutturata adesso, che è l'Europa dei banchieri, l'Europa dei burocrati, che va ad annichilire tutte le differenze individuali e le tradizioni dei vari paesi. L'Europa che vuole il pensiero unico, come dice Matteo Salvini, che vuole la moneta unica e che ci ha portato in questa crisi molto grave che stiamo vivendo.